Buongiorno amici di Pausa Caffè, bentornati, un saluto a tutti da Max e parliamo di posta certificata che cambia nome, nel senso rimane più o meno sempre la stessa ma dobbiamo adeguarci ai cambiamenti. La PEC non ci sarà più, andrà in pensione, verrà sostituita dalla REM, REM che è questo nuovo meccanismo di certificazione delle email che rispetta gli standard europei e quindi a tutte le carte in tavola per poter arrivare al posto della PEC. Superando così un limite del vecchio sistema dal momento che sarà possibile utilizzarla non soltanto nel nostro paese ma in tutti gli stati membri dell'UE, dell'Unione Europea. La PEC non rispetta del tutto i requisiti del regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato a livello europeo. Il motivo è semplice, non si ha la certezza dell'identità del destinatario che non è verificata e protetta. Se si ha la necessità di inviare documenti a un'altra persona non si ha la sicurezza che sia quella. Mentre con la REM sì. REM sta per registro elettronico mail. Come funziona? Esempio, un professionista che invia un documento confidenziale ad un cliente con la REM avrà la certezza che il documento arrivi solo al destinatario desiderato senza rischi di intrusione. Eon ci sarà neanche il rischio che la PEC venga inviata da un collega di studio che ha accesso al computer. La PEC garantisce la ricezione, l'invio, il contenuto e la data di un messaggio. Mentre non verifica l'identità del mittente e del destinatario, perché chi fornisce il servizio PEC non è obbligati a confermare l'identità dell'utente. Con la REM, invece, l'identità del titolare della casella di posta è garantita. E questo offre anche una maggiore sicurezza contro possibili attacchi informatici. L'Unione Europea ha già fissato la data. Entro il 2024 ci sarà l'obbligo di avere la REM. Chi oggi deve possedere una PEC, entro la fine dell'anno dovrà cambiare sistema. Cosa comporta? Che riceverà su questo nuovo strumento le notifiche di atti giudiziari, le multe, le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e della pubblica amministrazione. L'identità del titolare della casella postale sarà verificata attraverso strumenti come SPID, firma digitale o carta di identità elettronica. L'accesso richiederà l'autenticazione a due fattori che si otterrà tramite app su smartphone.